ci sei ok allora dobbiamo soltanto procedere alla premiazione brian ha vinto il premio di miglior giocatore della tappa se l'è meritato ha messo in mostra una grandissima tecnica in campo strapotere fisico in alcune azioni e poi il senso di squadra l'ho anche detto mi piace giocare a lazio mi piace giocare per la squadra è il migliore aspe che che non capisco mi fanno dei segni che faccio pronto siamo a posto era bello premiamo abbiamo premiato ecco qua allora brian se tu devi telefonare se mi devi telefonare a me usi questa io rispondo sempre ok grande esatto esatto come si chiama la tua namorata roberta 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 ciao famiglia sorridi se il capo cannoniere del torneo però però che è successo non sei soddisfatto non tanto bene l'ultima partita può capitare insomma ha giocato un super et stellare mi spiegava ieri che appena un mese che t'alleni sulla sabbia hai chiuso hai chiuso la tappa con sei gol quindi insomma già hai dato il tuo grande contributo alla squadra poi una partita che non giochi come devi giocare può capitare si importante era il risultato anche se è venuto a rigori sempre due punti niente affranto adesso cercheremo di qualche faccio di racconta una barzelletta e farti ridere facciamo così per per tu stai fermo tu stai fermo sorridi sorridi non riusciamo a farlo sorridere intanto però vediamo se sorridi con la con la cornetta tu hai visto che c'è uno strano personaggio vestito di blu riccio con le stampelle che gira sempre con questo telefono in mano in macchina eccola il tuo allenatore lo vede il fish salutiamolo salutiamolo ciao mister ciao mister allora eccolo qua il capo cannoniere della tappa del super et lo abbiamo premiato se lo è meritato gioca soltanto da un mese a beach soccer ma si vede che ha un maestro che gli sta insegnando tutti i segreti della sabbia il ministro della sabbia mentre ci fanno dei gran gesti eccolo qua eccolo qua il maestro il ministro della sabbia ti presento il ministro della sabbia lo conosci no penso che sia stato bravo Elia la prima esperienza la prima tappa bravo c'è da continuare così fare come hanno fatto i tuoi compagni di squadra allenarsi giorno dopo giorno hai visto che spettacolo eccezionale che è il super et hai visto a che partita abbiamo fatto contro la lazio una partita penso formidabile questo è il beach soccer questo è il super et vai avanti così che ci togli delle soddisfazioni però vediamo anche il premio timidezza del super et grande lì a troverà maggiore confidenza che i microfoni perché noi gli daremo più segnerà più gli daremo il tormento questa abbastanza devi devi non segnare per non venire più qua vedi un po va bene noi la chiudiamo qua vi salutiamo volevo salutare anche l'uomo della sicurezza quello che mi porta a tutti i giocatori e non vogliono mai venire perché sono timidi arrivederci alla prossima tappa bibbione ciao ciao